Cioè, sappiamo che... A sta botta la me ne sapevo... Poi, ricordatevi il nome... Mi sa che tocca fare la vecchia lista, sai? Ma non ho voglia... Guarda, vedi? Che cazzo ho detto io, in chi ho detto... Ragazzi... Sono veramente euforico Cerca di curare... Era meglio l'azzo Ragazzi... Sì, era meglio anche Cabo, non sa per questo... Sì, era meglio anche Cabo, non sa per questo... Dai, quante serie ci avrà questo? 50? Sì, probabile... Vediamo... Sono già pronto... Dai... Caricamento di merda... Non ce lo fa vedere, per pietà Comunque Kraken su controllo atmosferico... Mi mancava ancora... È vero, non l'abbiamo fatta... Solo è del Kraken, mi sembra... Ma neanche quella... Ci girano alla larga da sta mappa i Kraken... È da Golia, da Gorgone... Vediamo un po'... Mh... Dove distrugge... Perci... Multipla... Non so... All'era la scelta giusta... No, la zero era meglio... Ma... Comunque... Non serve a niente... Good luck and fan... Tua sorella... Gode... È una merda... Però tutte le altre parti no... Arrelletene vai sotto arrelletene... Se sei in difficoltà... E... Le altre zone sono tutte rialzate... Ma di brutto anche... Beh... Vediamo... Guardalo... Lo vedete? Ma aspetta... Ha la skin... Man of War... Quella lì eh... Mi sa... La stessa cosa sono io... Bellissima... Non si chiama più così però... Eh... Te la ricordi no... Comunque... Si... Me la ricordo bene... Vabbè... Vabbè... Tu c'hai scudo solo per me... Ricordalo... Vabbè... Però boh... Mi fa pensare un Kraken... Se la crede un botto allora... Vediamo... Lo... Lo giocherà tipo... Il Kraken anziano... Occhio eh... Non dividerci troppo... Che se apre lui... È un casino... E' qua... E' fidati... Buttaggio in due secondi il Kraken... Eh... Eccolo eh... Minchia... Guarda... Dov'è? Minet... Ah ok... Miii... 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 Minchia... Come sta lontano... Colmili di Pegasus... Colmili di Pegasus... Miii... Non so chi scudare... Io... Io sono a posto... NOOOOO... Miii... No... 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 Red... Perchè sei andato lì... Red... fuga. Dov'è? Lì dietro. Barbaro. Merda. Vuole l'assalto. Sì. No. Minchia sono venuto giù le sue. Minchia non riesco a mettergli la mina. Cazzo. Ma non perde, eh? Dio. Non scappa da me. Mi permette di girare. Non sei giù, vero? No, no. No, no. L'ho tenuto su. Non ci penso a schiattare. Ma secondo me... Non diamolo ad un cazzo, però. Cioè, due ore di fight assurdo, un'attacca e mezza, nel solito. Non sono riuscito a mettergli le shrapnel, purtroppo. Quello è il salto, mi sembra. Vabbè, non lasciamo perdere adesso. È buonissimo, però. Vabbè, sì, no, infatti, già che andiamo lì, prendiamolo. Minchia stranamente riuscivo a colpirlo, anche, col fucile. Eh, perché era un ambiente molto stretto. Però me la... Me la aggiustavo anche con l'insettino. Ogni secondo ce l'aveva si addosso. Cosa sta succedendo? Casca la mappa. Comunque avevamo un vantaggio abbastanza buono a livello di produzione. Grande. Abansi. Ti puoi sparare, è del ricordo, però. Non l'ho vista, ma ha preso da dietro. Eh, forse l'ha lanciata prima. Qui siete, eh? Sì. Aspetta. Minchia stranamente. Cazzo, siamo a relè, siamo a relè. Quindi? Quindi siamo a relè. Dov'è il mostro? Oddio, occhio. Non so chi l'ho presa, ma ho salvato qualcuno. A me, a me. Mi si scaricato tutto. Banshi. Basta, minchia mi sta sfondando. Eh, vuol fare lo stronzo. Ok, raga, no, mi demolisce così. Io non starai qua dietro. No, infatti devo star qua redetto. Usciamo, usciamo. Qua qua dove devo prenderlo. Eccolo, ora fatelo fuori. Dov'è lo stronzo? Oh, minchia, te l'ho attaccata, eh? Sì, più danni. Lanciami l'insetto. Non ti vedo, Grimm. Ok. Lancialo, lancialo. Questi schien non sopprattano via. Ce l'hai proprio dietro. Merda. No, 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 fai il giro dell'albero. Fai il giro dell'albero. Sempre così. Te l'hai presa una bella botta, eh? Bastardo. Dov'è, dov'è lui? Là, là, là. Ho pingato. Ok, minchia, un attimo che mi riprendo. Eccolo. Eeeh, pensuole. Se cazzo, se cazzo non prendetele. Pensuole, dimostra un po' lì da solo, che c'è il drone. Guardalo, guardalo come mi cerca. No, Red, no, Red. Vieni dietro l'albero. E che ha sta qua? Eh, ma si rifulda di cosa? Eh, ho capito. Tanto c'è, abbiamo ancora tre minuti, eh. No, bisogna colpirlo, perché sennò ma si ricarica tutta la corazza. Ma dov'è? Scusa? Dov'è? Sì, quant'è? No, 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 ragazzi, venite indietro. Minchia, ma si è messo tutta la corazza, eh? No, vai dietro l'albero, Red. Non c'era facile. Non ci credo, cioè, ce l'ho avuta vinta. Certo. Occhio. Sì, no, ma l'ho matrice. Sì. Sì. Gli sei stato un po' troppo aggressivo, Red, qua. Eh. Troppo. Sennò si rifuldava. Ma chi se ne frega, avevamo tre minuti di cupola. Cazzo. Cioè, ci avevi fretta? Non lo so. No. Ho fatto una cazzata. Ok, ok, silenzio, lo vedo. Se è andato là dietro, si evolve. Il mostro si è evoluto. Poi non avevi neanche il bonus salto, come al solito. Se volete fare qua, non abbiamo cupola per trenta secondi. Non penso aprile tanto. Scapperà. Ma che è andato. Oh, che grino. Preparati a morire. Ho solo il proietto scudo. Tantazione. Andami il drone. Ma che grino. Madonna. Se te ne servono ancora ti deco al prossimo giro. Brone curativo lanciato. Cupola pronta. E comunque non gli seguiamo via vita. È troppo difficile. È andato meglio il primo round che questo. Stavamo più al chiuso. Qui della non potevamo andare. Però è stata una cosa che si rende pure armatura nella dome. A spam proprio. Gli si ricarica. Da sinistra, da sinistra. Oh, questa è resistenza a danni. Ma ho resistenza a danni, scusate. Minchia, questo assurdo. Infatti non muore. Oh, ok. Solo del 10%. Sì, sì. Per il vostro 80%. 100%. È morto un crimine. Ma dov'è? È andato nella zona delle relaie? No, è lì, è lì, è lì. Non lo troppo. Eh, ho sbagliato. Occhiole. Iiii. Pieni il drone. Grazie. Devo andargli sotto. Niente, eh. Non si fa a beccare da ste cazzo di Banshee. Ci prendo io. Presto. Drone, drone. Drone. Minchia, occhio che mi sfonda, eh. Per me è un incubo brandon, eh. Occhio. Minchia, ho bisogno di cure, eh. Subito, subito. Eccolo, eccolo. Te l'ho preso con lo scudo, va bene. Grande. Pianione. Vieni. Non ne approfitti adesso che... Eh, niente, si libera. Niente. Aspetta, aspetta. Dù, dù, dù. Stiamo giocando Un attimo Ok Ok Occhio Occhio a queste La sua specialità Mi chiude E dai basta abbassi madonna Minchia se ne ha presa Ma che con pazienza quel cracker Si con pazienza Eh ha parlato minchia non ha prende Con pazienza Infatti degli errori si impara Con pazienza in campo aperto Minchia ogni seconda era Minchia ogni seconda era Il cazzo di dronale Do cura lui dovevo lanciare Minchia Che vuole Pfff Purtroppo era sinceramente Brad Non era facile Sargli sotto Non so se è più facile Medico supporto Mmm Se non me è quello Andando più in panico ero io ma so Ragazzi è anche No C'è un cazzo che tenga Chiudetelo 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 Dall'altro lato Eh più o meno dove sto andando Lo fra Spara Poi un fulmine a dio Scudo Poi scudo è bombardamento inutile Eccolo qua E' qua Dai No Minchia qua non lo so eh però Oddio Lo volete fare? No no Non ancora Dida ti fallo Guarda che ne sta perdendo 80 Ehi No Ale Ale no Marda Stai vicinando Stai vicinando Stai vicinando Si 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 ci sono ci sono No Red 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 Occhio E Aido continua a sparare Sennò non vi curo Grazie Dai 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 raga Ultimo sforzo No bastarda Non scappi Si Bravi Minchia Di meraviglia 2.0 Si si drone 2.0 Brad